Una svolta che ha come obiettivo migliorare concretamente le condizioni di lavoro dei rider. E ancora una volta è la Toscana a fare da apripista, garantendo a questo tipo di lavoratori una vera e propria tutela contrattuale prevista dal lavoro subordinato, che punta a altra novità, attraverso un albo delle imprese o un marchio etico, a far crescere tra consumatrici e consumatori la consapevolezza sulla sostenibilità etica della scelta fatta dalle aziende che hanno sottoscritto il protocollo. In altri termini l'accordo firmato dal Presidente della Toscana Eugenio Gianni, assieme all'assessore al lavoro Alessandro Nardini, che in questi mesi ha coordinato la definizione del protocollo con i sindacati confederali CGL, Cisle Wille, le aziende toscane del settore, il Comitato regionale dei consumatori, dice chiaramente che chi fa il rider deve avere gli stessi diritti di un dipendente privato, quindi garanzie sulla sicurezza, ferie pagate e tutela della sua salute. Siamo orgogliosi di questo risultato e abbiamo voluto coinvolgere fin da subito anche il Comitato regionale consumatori e utenti perché a nostro avviso è assolutamente necessario e doveroso dare un riconoscimento, quello che abbiamo definito un marchio etico per le aziende che hanno deciso con coraggio di operare in questo senso, di fare questa scelta e affinché le consumatrici e i consumatori sappiano anche come arriva quel prodotto alimentare sulle loro tavole.